Un saluto a tutti. Procediamo con lo studio della nostra dispensa elementi di disegno tecnico dove c'eravamo bruscamente interrotti, ossia sul formato dei formati. Quindi i formati rifilati vengono contrassegnati con la lettera maiuscola A, serie ISO A. Il formato di riferimento è la zero di aria di circa un metro quadro. Qui abbiamo anche la formuletta dove vediamo base uguale a radice di 2 per l'altezza. Questa ovviamente è la ragione che ci permette di calcolare tutte le dimensioni dei bordi di tutti i fogli. Quindi adesso per esempio per il foglio A0 che vale 841 per 189 mm, 7 mm, vediamo che è rispettata questa formula. E quindi abbiamo queste proporzioni, se vogliamo, tra i vari fogli, ossia la 1 è metà della 0, la 2 è metà della 1, la 3 è metà della 2, la 4 è metà della 3. Stiamo parlando dell'area. Forse, detto così, è più ostico. Se vediamo questa immagine sulla sinistra ci apparirà tutto molto più semplice. Qui abbiamo rappresentato il foglio A0, il foglio di un metro quadro, quello che si usa per i progetti di grandi dimensioni, dove in uno stesso foglio si rappresentano più cose, più dettagli. Quindi dove si vuole fare una rappresentazione veramente completa e articolata in un unico foglio. Ovviamente per stampare un foglio di queste dimensioni necessita una stampante particolare che è detta plotter, dove c'è questo rullo e ci sono i pennini che disegnano sul foglio che esce da questo rullo. È una macchina costosa ovviamente, non è una stampante normale. Vediamo che questo foglio A0 è diviso in due parti, A1 e dall'altra parte c'è un altro A1, che a sua volta, quindi il foglio A0 è diviso in due A1, come abbiamo detto poc'anzi, A1 è la metà dell'A0. Il formato A1, quindi quello a destra, a sua volta è diviso in due formati A2. Non so se vedete, a occhio si vede. Quindi, come abbiamo detto, A2 è la metà dell'A1. A sua volta l'A2 è diviso in due A3, perché l'A3 è la metà dell'A2. L'A3, a sua volta, è diviso in due A4, e siamo arrivati finalmente al foglio A4, che è il famoso quadernone, la pagina del nostro quadernone o del nostro disegno, quello più piccolo che utilizziamo in classe. Quindi, due volte l'A4, abbiamo l'A3, il foglio più grande, che viene stampato anche da qualche stampante particolare, e non sembra una stampante che si trova in commercio tranquillamente, costa qualcosina di più, però ci permette di stampare i fogli più grandi, i fogli A3, che sono due volte l'A4. Torniamo alla nostra dispensa. Parliamo di scala di rappresentazione. Che cos'è la scala di rappresentazione? Vediamo se riusciamo a scrivere qui, commento. Disegno, due punti, realtà. Ok? Ho scritto D2.R. Cosa significa D2.R? È un rapporto, è una divisione tra le unità del disegno e le unità del reale. Quella R sta per reale. Ricordatela, così questa piccola formuletta. È un rapporto. Potevo scriverla pure sotto forma di numeratore e denominatore, però in questo caso la normativa prevede i due punti classici del segno di divisione. Quindi non ho parlato di millimetri centivi, ho parlato che le unità, che siano esse millimetri, saranno rapportate a certe unità e numero della realtà. Quindi andiamo a definire che il rapporto tra le dimensioni del disegno e quelle dell'oggetto reale, non sta scritto, ovviamente si intende reale, si dice scala di rappresentazione. Andiamo a definire tre macro aree. la scala di ingrandimento, che sono quelle consigliate, quelle riportate. Anche qui la normativa dice, io voglio ingrandire. Quante volte voglio un dettaglio, un particolare? Anche in questo caso la normativa ci suggerisce dei rapporti di ingrandimento particolari. Quindi 50 a 1, come si legge in italiano? 50 a 1, 20 a 1, 10 a 1, 5 a 1, 2 a 1, qui andiamo sempre diminuendo man mano. Questi sono ingrandimenti maggiori. 50 volte l'unità del disegno equivale a una sola della realtà. Quindi sul disegno, sul foglio, stiamo rappresentando qualcosa di più grande della realtà. Qui andiamo a scendere, no? 20 volte il disegno, quindi è più piccolo di 50. 10, 5, 2, fino ad arrivare alla scala naturale. 1, 2 punti, 1 a 1. Che è quella che solitamente utilizziamo per rappresentare i nostri disegni, soprattutto nel primo anno. Nel secondo anno qualche ingrandimento forse lo facciamo, anche di qualche dettaglio, però solitamente rappresentiamo con la scala naturale, e non la scriviamo neanche. La omettiamo. Anche se poi vediamo che questa è una forzatura, una semplificazione nostra, per non perdere troppo tempo. Quindi scala 1 a 1 è quella naturale, dove l'oggetto ha le stesse dimensioni della realtà. Quindi l'oggetto rappresentato sul foglio ha le stesse dimensioni della realtà. Scala di riduzione, sempre consigliate, 1 a 2.5, 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100, e andando ancora, abbiamo, per esempio, si arriva anche a 1 a 25.000, 1 a 15.000, 1 a 5.000, 1 a 1.000. Questi numeri così grandi, solitamente, vengono utilizzati per la rappresentazione del territorio, nelle mappe delle nostre città, dell'Italia, dei paesi, delle province. Ma questo è un aspetto che esula da questo argomento che stiamo trattando. Andiamo avanti. Le iscrizioni. In riguardo delle iscrizioni, o tabella delle iscrizioni, spesso detto cartiglio, detto anche mascherina, che in questo periodo va tanto di mo', vabbè, non scherziamo più di tanto, la mascherina riporta le indicazioni atte ad identificare il disegno ed è solitamente posto in fondo sulla destra del disegno, come abbiamo visto anche prima, in fondo sulla destra. Qualsiasi formato sia, a 0, a 1, a 3, a 2, quello che sia, sembra in basso a destra. Cosa viene riportato solitamente? Questo è un cartiglio di quelli, diciamo, ufficiali che usano l'azienda per produrre, per identificare parti o componenti che stanno producendo, quindi è una cosa seria, non è una cosa didattica. Abbiamo preso, appunto, questo esempio. Solitamente ci sono delle informazioni di natura testuale che vanno a completare e vanno a definire o a catalogare molto spesso l'oggetto rappresentato nel foglio e quindi sicuramente abbiamo la denominazione. Cosa stiamo rappresentando? Staffa di fissaggio con fori filettati. Ma, vi abbiamo dato un titolo, abbiamo dato un nome. Questo oggetto che vedete rappresentato in realtà si chiama staffa, l'abbiamo presentato, staffa di fissaggio con fori filettati, ad esempio. Numero di codici. In un'azienda si codificano tutti i pezzi che poi vanno a creare, che ne so, il motore, una macchina, un impianto. Quindi tutti i componenti che fanno parte dello stesso assieme, dello stesso impianto, dello stesso assemblato, sono opportunamente codificati. Questo serve sia per la produzione sia poi per la post vendita, quando c'è qualcosa da cambiare, da fare manutenzione, no? Ok, si è rotto la rondella, la terza rondella a destra, come facciamo a codificarla? La terza rondella, la terza vite da sopra, da so? Cioè, non è chiaro. Dobbiamo andare a cambiare le viti 35-40. Sono state codificate qui in maniera univoca. Quindi, il codice, il numero di codice, la ditta, chi è che l'ha prodotto questo pezzo? La data di esecuzione, norma e firma del progettista, quindi la data della creazione, nome e firma del progettista che l'ha validata, che quindi ha la responsabilità legale di quel pezzo che è stato progettato così. Del disegnatore, del revisore, solitamente ci sono queste tre funzioni. Chi progetta, chi disegna, solitamente non sono le stesse persone, le grandi aziende, c'è chi è il progettista, l'ingegnere che progetta, il disegnatore, potreste essere uno di voi, un domani, me lo auguro, il disegnatore, e poi c'è il revisore che è quello, diciamo, che va a validare l'operato dei primi due, come un responsabile superiore, no? Come il direttore della società che va a validare e va a mettere la firma e quindi condivide quel disegno, quella progettazione. Scala di esecuzione, l'abbiamo detto poco anzi, che cos'è la scala? A questo pezzo, in che scala è rappresentato? 1.1, qua lo vediamo qui, 1.1, in questo caso, questo esempio. Può essere anche un ingrandimento, 2.1, 5 volte ingrandito, 5.1, o in riduzione, non lo sappiamo, viene indicato, così non ci sono equivoci. Scala di esecuzione, tipo di disposizione delle viste, viene indicato, è una vista in sezione, sono due viste, prospetto, piano, oppure assonometrico, è una vista assonometrica, vogliamo rendere un simil 3D, lista dei pezzi, che casomai sono associati nell'assemblaggio di quello rappresentato, i materiali, eccetera, 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 mi viene anche da vedere il marchio, la ditta, quindi il timbro dell'azienda, il logo dell'azienda che l'ha prodotto, la categoria, il gruppo, anche discorsi di natura fisica, quindi il peso, la finitura, ci sono veramente tante cose che si possono mettere, a seconda del livello di dettaglio che vogliamo fare. Andiamo giù, tipi di linee, anche questo abbiamo detto, abbiamo visto in una lezione precedente che anche i tipi di linee sono codificati dalla normativa. noi solitamente utilizziamo una linea continua fine per le linee di costruzione, la linea continua spessa per i spigoli e i contorni in vista, quella tratteggiata per spigoli e contorni nascosti, non in vista. Poi abbiamo la linea tratto a punto per gli assi di simmetria, il cerchio o se il pezzo esso stesso è divisibile in due parti speculare e quindi è simmetrica il pezzo stesso o dove ci sono i cerchi. Andiamo a indicare il centro e i diametri, come già sappiamo, e la linea vista viene utilizzata anche per indicare i piani di sezione che vedremo più avanti. Quindi, ci sono veramente tanti tipi di linee a seconda, alcune non abbiamo neanche utilizzate, questo per i due punti, contorni e pezzi vicini, sono particolari di linee in casi particolari. Si va poi nello specifico. La mista, per esempio, gli assi di simmetria. Vedete questa, l'H, questa codificata come H, che ha i tratti ingrossati dove c'è il cambio di direzione del piano. Questo è proprio quello che utilizziamo per la traccia dei piani di sezione. Quando noi andiamo ad indicare i punti di taglio dove passa il nostro piano di sezione, per intendere poi la successiva vista che viene campita, viene tratteggiata. Lo vedremo più avanti nella dispensazione. Dopo, procediamo, ci sono appunto le viste. Le vediamo nella prossima lezione. spero di essere stato chiaro e vi invito sempre a seguire il canale YouTube, la playlist di YouTube sulle nuove video lezioni che andremo a man mano a caricare. Un saluto e buono studio. Grazie.